... ... Te pareva un porco giù da un fame ladro? Ma tagliamoli questi minuti, oh! C'hanno 300 anni l'uno, ma quanto li volemmo far accampare? Che pare facile! Ancora con i vini stiamo. finocchiaro finocchiaro ciao a un marendo chi dovresti da essere? ma come non mi riconosci? no sono Fabris Fabris? ma che mi sta a piacere per culo? sono un po' dimagrito un po' stempiato ma sono Fabris primo banco a destra ma non c'è però tu c'hai avuto un crollo dove stavo grado dalla scala mercalli però e dai non esagerare sono anche passati 15 anni eppure per me sono passati 15 anni ti è? ma lo vedi come sto? guarda che robetta io sto in forma smaglianta ma te tu sei sempre lo stesso non sei cambiato per niente oh ma che sei i miei primi? pare di sì forse siamo in anticipo ci conviene aspettare qui oh invito 10 ore 18 mancano 5 minuti ce ne frega niente non vedi pure la fotografia ma è quella dell'ultimo anno eh sì guardate com'eri guardate come sei ma hai marito zio e basta ho capito eh oh questo mi piace oh tutta roba d'epoca ci ha messo a Fabris sì senti se ti piace questa eh oh a me mi ricorda un sacco di cose un sacco di donne sentila eh niente eh oh ma c'hai mai mai che hai feste te ti invitavano eh oh ragazzi a occhio e croce siamo tutti migliorati eh ma vi ricordate come eravamo prima no Luca c'è un'eccezione che conferma la regola tu me ti dici a quello non c'hai 30 secondi te do una settimana ma chi è ma perché chi sei che me ne aveva detto Fabris ma che è Fabris ma che sei Fabris mi coglione quando sei arrivato stavamo appunto discutendo su quanto la vita sia strana bizzarra e anche ingrata ci confrontava il destino di due esseri umani e si diceva che mentre Toscani è stato letteralmente graziato dagli anni e dalla natura ma oh ma vi ricordate che era mitragliato dall'acno pieno di porfora uno schifo irriducibile adesso possiamo dire che miracolosamente ci appare come un bell'uomo grazie affro in contrapposizione c'è il fenomeno che io definirei Fabris 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 ma ci vuoi dire che cura hai fatto per ridurti così non è impossibile è tremenda è da denuncia uno non si può presentare ridotto così li vanno un certificato ma d'ufficio di genere basta ragazzi per favore smettitela che si offende dai no 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 falli divertire si divertono così no deprofilo no non lo posso portatelo portatelo eccomi qua è terribile è terribile divertitevi no dai 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 su ma io schiazzavo sei pesante ma sei pesante come sei io so fatto così a battuta mi piace te posso farmi Federica ciao ciao che gioia rivederti anche per me postiglione ciao ma media e tu chi sei io non sono nessuno nessuno scusi signore scusi vi lascialoia questa qua ma vaffanculo te vi lascialoia oh ma chi te conosce ma che sei scemo faccio ça va chan musti che è che che ti che che